Musica E allora ben ritrovati a tutti, cari amici di Mobile Geek Siamo oggi qui riuniti per recensire un paio di cuffie Che ci sono state gentilmente offerte da Unidea Italia e sono distribuite da Puro Queste cuffie sono le IPHF207 Sono cuffie stereo, come vediamo sono cuffie on-ear Abbiamo qui la colorazione bianca ma è presente anche una colorazione total black e una colorazione viola Sono cuffie che per il prezzo per il quale sono vendute, cioè 19,99 euro, sono decisamente buone Hanno un rivestimento soffice per il padiglione auricolare Sono in plastica con l'archetto che è rivestito in tessuto anch'esso morbido Sono cuffie adatte soprattutto a smartphone tablet in quanto hanno nel cavo Vediamo se riesco a metterlo a fuoco Il tastino per rispondere e chiudere le conversazioni e per mandare avanti o indietro una canzone Queste cuffie hanno un jack standard da 3,5 Quindi vanno bene per praticamente tutti i tipi di smartphone e tablet Vediamo un po' se riesco a farvi sentire una canzone Vediamo se si sente Ovviamente non posso farvi sentire la qualità reale di queste cuffie Ma posso dirvi che comunque hanno un'impedenza che non è altissima di 32 ohm Quindi maggiore è l'impedenza più la resistenza del suono passerà per le nostre cuffie Quindi più hanno un'impedenza bassa maggiore sarà la qualità del suono che passa attraverso le nostre cuffie Hanno una sensibilità intorno ai 116 decibel E hanno una frequenza che varia dai 18 Hz ai 20.000 Hz Quindi comunque sono cuffie buone Che per il prezzo a cui sono venduti di 19,99 euro Sono cuffie veramente ottime La qualità prezzo è decisamente ottima Quindi per tutte le informazioni Se volete vedere le caratteristiche Ma le principali ve le ho sicuramente elencate io O comunque volete vedere le diverse colorazioni Che sono ad esempio il viola Vediamo se riesco a farvi vedere il nero e il bianco Che sono quelle che ho qua io Veramente un bel colore il bianco Potete trovarlo sul sito www.puro.it Bene per oggi è tutto Un saluto a tutti da Il Confa per Mobile Geek Grazie a tutti